la storia che stai raccontando non è per niente non è per niente quello che sta succedendo però vabbè il problema più grande spero che sia l'ultima volta che parliamo di questa situazione non credo lei lei gli ha creato attorno terra bruciata con le sue dichiarazioni parliamoci chiaro ok senza far giri di parole chi ha messo in difficoltà i cari ma qual è la dichiarazione fuori luogo sui social i social che parli di spalletti l'altra volta anche qua deve giocare lautaro e con riccardi e fai l'allenatrice ma se mi fai parlare stavo dicendo chi ha creato tutto sto disastro è stato lei 1 per me parlando tanto secondo me questa l'opinione che ho io giusto sbagliato che sia che ha messo in difficoltà a lui tu che consiglia a mauro no no io non devo consigliare niente nessuno perché non è che sono nella testa sua 2 il problema più grande è che gli hanno tolto la faccia un motivo c il mondo è un problema molto più grande è che gli hanno tolto la faccia un motivo c'è l'unica è un problema che gli hanno tolto la faccia un motivo c'è un problema che gli hanno